Vai Mariana, vai! Come vuoi? Mela! E guarda, te lo dico adesso? Te lo dico più! Perché il pepe mio e a lui gli piacciono le mie lecce a punta? E il mio buro piatto! E il mio buro piatto! Mariana, dove sei andata? In gita? Ma quest'anno abbiamo deciso di andare a Barcellona perché l'anno scorso e io e Peppe abbiamo deciso di entrambi non andare in dita e dico entrambi perché io vado a dire c'è un classico e lì parlano così voi invece siete delle rosse e di basso livello non potete competere E il studente come ce l'hai? Ce l'ho schiacciata E poi se ti fa sentire una cosa Lei non si può mettere in mezzo e cosa fa lei con il culo? Lei lo sbaglia a testa e a sinistra ma non ha capito che a Peppe non piace il culo che viene sbagliato a testa e a sinistra Ti piace il tuo culo schiacciato? Mi piace il mio culo E le mie detti a punta Già l'ha detto Ai capelli? No Con la ferina E la frangia? C'è un modero No, perché siete andata con Peppe? Perché siete andata con Peppe? Scusami Non è arrivato E stiamo facendo video Grazie!